boxari ben ritrovati ragazzacci xbox zone il canale fatto dai boxari per i boxari un canale schietto un canale libero soprattutto un canale semplice e un canale gentleman e un canale serio questa è la cosa più importante il fattore più importante questo soprattutto un canale per boxari veri ovvero gente seria gente tranquilla che non si fa prendere dal panico da questo periodo un po di polemiche contro xbox insomma praticamente tutto ciò che ruota intorno xbox puzza un po e i boxari è un po gentaccia non è proprio nelle conversazioni su tutti i suonari e tutti nintendari che parlano allegramente dei loro capolavori e quando il boxaro timidamente alza al dito e dice excuse me no niente boxaro viene sentito per favore per favore nella smetta perché stiamo parlando di cose importanti lei con il suo game pass windows che si incricca microsoft che compra tutto per favore stia zitto e quindi se boxaro viene sentito ma state tranquilli perché c'è il vostro mob il vostro mob che vi tutela sempre voi voi se anche nei momenti un po di di tristezza possono capitare a tutti voi voi venite nel vostro canale nel vostro tempio della pace e ritroverete un equilibrio cosmico delle vostre anime perché lo sapete lo sapevate qual è il colpo di scena boxari e che in realtà avete ragione voi avete ragione voi ricordate sempre che quando vi attaccano vogliono proiettare su di voi i loro disagi perché adesso vi spiego un segreto boxari venite qua sambuche sambuche chi è sereno chi è tranquillo non attacca gli altri ricordatevelo sempre chi ha questa serenità addosso non attacca gli altri quindi il boxaro non attacca il boxaro combatte sicuramente ma non attacca può essere un concetto un po astruso ma non lo è ricordate lo boxari non si attacca perché chi attacca il boxaro ama 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 il prossimo ama ama stare online ama social proprio per questo gode di un'interfaccia così improntata sui social la lista amici gli obiettivi da sbloccare è l'imprinting che vi ha dato l' xbox 360 capito amici boxari per questo nell'altro video mi arrabbiamo perché phil spence fa fa il gandhi non devi prendere schiaffi in faccia te te pepe che sei il capo carismatico non prendere gli gli schiaffi in faccia fai vedere fai vedere che cosa rappresenta questo che cosa rappresenta xbox e cosa rappresenta essere boxari però voi boxari state tranquilli anzi questo è proprio il momento è arrivato il momento di far vedere quanto valete perché vogliono buttarvi giù boxari vogliono buttarvi giù perché hanno dei conflitti che devono sfogare su di voi lo avete capito cioè ragazzi boxari guardate guardate da una differente prospettiva pensate a un sonaro che si deve ficcare quella balena verticale di 6 metri per tre si deve prendere un armadio per ficcarci quella roba orribile inguardabile che quando vengono gli amici chiudono tutto ma dov'è dov'è la ps5 dove no è nell'armadio non la fila armadio lasciala lì nella roba che non si può far vedere non da puoi far vedere alla gente ok quindi devi chiudere ho pensato a nintendari con un tablet in buona sostanza che switch attaccato a cosa alla charge station cioè ragazzi da volete mettere un boxaro che ha una bella serie x una serie s che sono anche bellissimi oggetti da redamento che ha tutto un ambiente integrato con il pc con con di smartphone con il tablet va in bagno col suo smartphone e continua a giocare dove aveva interrotto sulla console su pc al suo account la sua community alla legacy si ritrova tutti i prodotti che ha acquistato nel passato è tutta una continuità un continuum un una singolarità boxari ma queste sono cose importanti cercano di togliervele no questo è il momento di far vedere veramente serenamente non con rancore serenamente ma fermamente far vedere quanto valete perché adesso vogliono vogliono tirarci giù e noi gli faremo vedere la ciccia carissimi boxari ok vabbè ora con più chiuso chiuso questo preambolo in questo video voglio parlare ora parliamo di cose serie davvero è una cosa molto seria è una considerazione che stavo facendo e la voglio condividere con voi boxari ma anche non boxari perché non è che io voglio voglio sta a cantarla con i miei fratelli cioè va benissimo anche se vengono fratelli sonari nintendari pc st master race è una conversazione è una considerazione che è giusto fare tutti anche se io ovviamente sono orientato sul mondo xbox allora il concetto è questo carissimi amici quando esce un gioco nuovo i tempi e sono un po cambiati rispetto a prima ok siete d'accordo su questa cosa ma portatemi vi metto una mano sulla spalla sambuche con l'espressione alla celentano portatemi ad approfondire questo concetto esce un gioco ed è molto diverso da prima perché prima come funzionava di un gioco tu avevi la demo la demo che usciva in un periodo comunque qualche giorno prima del lancio vero e proprio una settimana due perché la demo la demo serviva a dare i mezzi di valutazione all'utente per acquistare il prodotto quindi lo provava e poteva appunto valutare se poteva poi procedere all'acquisto o meno a questo serviva la demo ovviamente il produttore si esponeva a una potenziale diminuzione di vendite perché magari l'utente non piaceva il prodotto non gli piaceva la qualità o non gli piaceva il prodotto per gusti personali e poi non lo acquistava però guardando il bicchiere mezzo pieno era anche un grande mezzo pubblicitario per il prodotto perché comunque poteva anche invogliare l'utente ad acquistarlo cosa che invece non può fare se il prodotto è al buio quindi cioè non si sa niente finché non il prodotto non esce nel mercato e quindi l'utente lo deve acquistare non sapendo né se gli piacerà né se la qualità sarà all'altezza delle aspettative è un acquisto al buio allora che cosa quali sono gli operatori che dovrebbero ovviare a questa cosa sono i giornalisti ai quali i produttori danno il gioco in anteprima i giornalisti lo recensiscono e dalle recensioni l'utente dovrebbe avere un po una mappa su quel prodotto se il caso di farlo uscire o meno bene adesso succede questo con i prodotti il lancio dei prodotti moderni le demo non ci sono più se non in casi veramente limitati tv resident evil capcom una demo tra fa uscire ma sono pochissimi mentre prima era la normalità adesso è l'eccezione pochissime demo disponibili prima del lancio perché perché non vogliono in buona sostanza non vogliono farvi vedere il prodotto perché perché i prodotti escono tutti incompleti in buona sostanza se non salvo rarissime eccezioni leggi nintendo che è una concezione un po samurai di voler pretendere di metterti sul banco dei negozi il prodotto bello che è finito questa è ormai una formula che i produttori occidentali l'hanno abbandonata da tempo perché ci vuole un sacco di tempo per produrre giochi gli azionisti spingono e soprattutto spingono nelle parti basse e sono terrorizzati gli sviluppatori dagli azionisti perché ormai tutto in mano a loro e gli azionisti decidono la deadline quindi quando decidono che metta del singer devo uscire esce punto e basta se gli sviluppatori fanno ma scusi sun book io non l'ho finita ancora non importa lei lo fa uscire ugualmente perché sennò le facciamo un mazzo come un hangar perché i soldi li abbiamo messi noi se permette quindi lei lo fa uscire e poi lo ripara in corso d'opera tanto è tutto online è tutto patch c'è la patch day one che ormai è la normalità come la release e poi lo riparerete se vi fanno la shit storm cavoli vostri preparate un piano per gestirla e poi dopo lo riparerete quindi tutti i prodotti mandate tranquilli che escono incompleti non esce niente al cento per cento grazie anche un po viziata un po avvelenata da questo sistema delle patch siamo tutti online ormai la normalità al gioco a parte salvo quei disgraziati che vivono in montagna e sono offline e non se lo possono aggiustare il gioco ma questa è grave sta cosa è grave siccome escono tutti con prodotti incompleti non ne vogliono sapere di farvi vedere la demo ma se ci fate caso nella demo c'è sempre scritto il prodotto che vedrete potrebbe non rispecchiare il prodotto definitivo questo perché sono terrorizzati dall'idea che da una demo le persone gli utenti los utentus si possono fare un'idea del prodotto finalizzata all'acquisto quindi le demo via tolte le demo che cosa rimane al poco spiacevole eventualità dell'utente che va acquistare il prodotto al buio i giornalisti quindi giornalisti devono recensire il prodotto e darti a disposizione la recensione prima dell'uscita prima in maniera che al momento del titolo quando esce tu hai i mezzi le risorse per valutare se fa per te oppure no e quei 70 euro magari non li hai buttati dalla finestra ok fin qui tutto bene boxari bene però adesso c'è un elemento molesto aggiuntivo ovvero che i giornalisti subiscono pressione dagli sviluppatori ma sta cosa si sa si può dire apertamente subiscono pressione dagli sviluppatori per non uscire con le recensioni prima del dovuto lo sviluppatore ti dà il c'è una sorta di ricatto intrinseco vuol dire che lo sviluppatore ti dà il prodotto in anticipo per recensire darti il tempo perché ovviamente vorrei vorrete dare il tempo a un recensore di di testare il prodotto no quindi glielo daranno un mese prima due mesi prima ma non vogliono che la recensione esca un mese prima e quindi vanno a impostare delle delle clausole che i redattori recensori devono firmare e se le violano sono sanzioni monetarie ragazzi gli fanno un mazzo come un hangar quindi ci sono degli accordi presi con lo sviluppatore per cui la recensione deve uscire in determinati periodi decisi dallo sviluppatore e questi periodi sono l'uscita avete capito che cosa fanno gli fanno firmare una clausola per cui se la recensione è fatta è bella che fatta pronta per andare online devo andare online il giorno dell'uscita quasi tutti fanno così e quindi a che cosa serve in buona sostanza se la recensione esce il giorno stesso io voglio essere sono quelli del day one 69 e 99 79 99 in tasca pronti per il lancio al day one ma se non ho la recensione che mi dia i mezzi per capire se il prodotto fa al caso mio o no esce il giorno stesso del lancio come faccio non va bene neanche così quindi la recensione perde il suo valore un po di faro di guida per il prodotto questo per gli stessi identici motivi non tanto valeva che vi dessero la demo non vogliono gli sviluppatori che una recensione possa influire le vendite prima dell'uscita perché sono completamente impazziti fustigati dagli azionisti terrorizzati che al day one non gli arrivi quella percentuale di utenti che acquistano appunto al buio ma vi sembra una cosa normale che tutto il sistema del lancio della promozione lancio di un nuovo prodotto sia messo così male e sia così a scapito dell'utente ma non esiste non esiste che io vada al day one alla cieca e non so com'è sniper elite 5 perché gli sviluppa scusate i giornalisti hanno il bavaglio e perché non c'è una straccia di demo io non te l'acquisto sniper elite al buio può anche se il capolavoro della vita super annunciata non me ne frega niente io tocco provo e poi valuto non te lo compro sniper elite al lancio te lo puoi scordare e magari altre persone fanno questo ragionamento magari invece ci sono quelli che sono un po in balia dell'istinto delle emozioni un moro wind uno skyrim non possono non acquistare la day one lo acquistano però rischiano di beccarsi delle fregature e buttare dei soldi se poi il prodotto non fa per loro insomma non va bene è messo malissimo questo sistema del lancio dei giochi ragazzi è messo malissimo sulle spalle di chi va a day one più o meno coscienziosamente ma non è normale questa cosa è anormale bisogna sapere un prodotto prima da acquistarlo se vale la pena o no la bontà del prodotto bisogna conoscerla prima di tirare fuori soldi ok e fin qui vabbè è questo è questa situazione veramente triste e paradossale che cosa può cambiare le carte in tavola ecco e si arriva al punto del video il game pass ragazzi il game pass può cambiare le carte in tavola della gestione del lancio dei giochi almeno su xbox ovviamente perché si parla di servizio su xbox ma questo non vuol dire che non possa funzionare anche in altri ambiti sicuramente su xbox funzionerebbe questo perché ormai sony con playstation 5 è riuscita a mantenere questo sistema un po arcaico del retail pover anni 90 anni 2000 c'è del retail gli utenti suonari che vanno con 69 80 euro a comprarsi gioco su un disco di plastica sapendo più o meno avendo più o meno la consapevolezza che in quel disco c'è a metà gioco e basta adesso se lo scaricheranno o attraverso patch insomma si beccano a mezzo gioco volenti o nolenti però sempre un po con quella sensazione che prendono il retail quella sensazione un po da cartuccia quel retail un po retro con eccezione retro sony c'è riuscita a mantenere questa idea ma microsoft non può farlo perché ormai è troppo lanciata sul digitale troppo futuristica visionaria c'è il game pass che comunque sta fagocitando il retail si sa questa cosa non può funzionare come sony quindi inutile che vada a fare la piangina phil spencer a dire non vinciamo mai dovete essere consapevoli di questo sistema dovete abbracciarlo fino in fondo e rivoluzionare le cose grazie a questo sistema il game pass può essere la chiave di volta di un cambiamento epocale perché gli utenti se il gioco esce sul game pass hanno la possibilità di giocarlo anche di non comprarlo al limite se non lo vogliono possedere per sempre ma gli va bene di giocarlo nel game pass hanno questa possibilità e voi direte vabbè ma qui si rischia di far crollare tutto tutto il sistema del lancio dei one perché insomma se la gente fa l'abbonamento e il gioco il contrast non lo acquista e se lo gioca solo sul game pass è un danno per chi produce contraste no chi lo fa contraste veniamo compulsion games ma compulsion games stessa rabbia fa o ma io tutte le perdite che faccio su xbox ovviamente si sta parlando su vendite su xbox mica su switch mica su playstation 5 o ma me chi mi ridà i soldi che ci perdo di eventuali vendite del retail e perso fa va da compulsion a parte questo è pubblicato da xbox game studios ma capiamo qualcosa non c'entra niente con con xbox game studio crusader king street cioè avete capito ragazzi questo è di paradox cioè microsoft va da paradox mettiamoci a sedere da veri uomini gustiamoci un branding da un brandy da da gentleman vieni paradox accavaliamo le gambucce prendi questo brandy sorseggialo senti il calore rilassati per stai tranquilla stai tranquilla stai tranquilla paradox è tutto a posto con quella corona lì di latta stai tranquilla ci penso io ma perché mi hai preso pensi in cirinello io sono microsoft io risorse infinite faccio quello che mi pare sei dai migliori mettiti a sedere stai tranquillo esci con me non esci nei negozi che non tanto non te lo compra nessuno crusader kings 3 perché tanto aspettano che esca sul game pass quindi vai tranquilla che è meglio così esci direttamente sul game pass e te la gestisco io se la gente lo vuole acquistare lo acquista anche con un bello sconto e se l'acquista a digital se no se lo giocherà come abbonamento non c'è problemi o ti arriva la percentuale in tasca degli abbonamenti meglio per tutte noi per tutti noi cara paradox sambucas perché più più abbonati ci sono e più soldi facciamo più soldi ti metto in tasca se permetti quindi è così in più in più una volta tanto facciamo anche un po gli interessi degli utenti non solo i nostri porca miseria questo questo mercato come è diventato avido non può girare sempre intorno ai quattrini in questa maniera facciamo i soldi si facciamo i soldi facciamoli tanti ma ma siamo un pochetto tuteliamo un pochetto l'utente smettiamo di mandarlo come un carne da cannone al day one al buio acquistare mezzo prodotto perché mezzo l'abbiamo fatto è chiaro il discorso con gli azionisti lì che ti sodomizzano porca miseria smettiamo di mandare gli utenti al buio a day one con 70 euro in tasca in meno e poi si fanno il sangue amaro no no non li mandiamo allo sbaraglio gli utenti con 70 in tasca gli diamo la possibilità di provare anche il prodotto prima guarda come sono felici si 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 scaricano crusader kings 3 supponiamo che hanno fatto un mese di game pass si scaricano crusader kings 3 gli basterà un mese per finirlo non credo non credo lo giocano li piace lo vanno acquistare 20 per cento di sconto e se lo ritrovano nello storico per sempre soldi che vanno in tasca paradox ci siamo boxari altrimenti non lo acquistano ma fanno per sempre l'abbonamento game pass tutti i soldi che che gentilmente danno al mensile se l'intasca anche paradox li daranno un coso gli daranno un incentivo e sono glielo danno sono soldi che vanno in tasca a microsoft e microsoft poi penserà a compensare le tasche di paradox l'avete capito ragazzi soldi i soldi girano ma finalmente gli utenti hanno un po più di tutela rispetto a prima non vanno più al buio la demo non c'è bisogno la demo è il game pass la demo avete capito che è il game pass se lo installano oppure lo giocano sul cloud quindi non vanno nemmeno a sprecare spazio sugli harddisk è il game pass la demo testano tutto quello che vogliono se se lo vogliono acquistare se lo comprono se non lo vogliono acquistare pagheranno il game pass deve deve girare tutto qui per questo ho detto anche che lo store non ha più senso ma lo store tenetelo per roba minore tenetelo per i super maxi sconti ma dovete giocare tutto sul game pass non ridurlo a una fine una finestrina pubblicitaria per qualche disperato che vuole vendere un prodotto che non lo vende nemmeno al mercatino delle pulci lo mette tre mesi sul game pass sperando che qualcuno glielo compri ma che cosa vuoi sperare ma che cosa è questa strategia disgraziata ragazzi ma vogliamo andare a vedere i deals ma vi rendete conto la situazione è ridicola e paradossale lo vedete il pattern lo vedete il pattern red dead redemption dove l'ho già parlato nell'altro video rischio di ripetermi va bene 29 99 ma si può vendere un gioco di sei anni fa 29 99 digitale nemmeno retail che non è nemmeno disco digitale è chiaro che loro non lo vogliono vendere a meno di questa cifra boh perché perché hanno hanno dei conti in tasca che si fanno sono semplicemente avidi questi non calano non si calano più di tanto le braghe e lo vedete il pattern dei prezzi non scendono più di tanto non scendono più di tanto sono bloccati e quindi no bisogna sbloccare questa situazione se o sono avidi o non possono è chiaro che questa cosa non va e arriva ellen noir ragazzi è una rock star ma la fai finita maledetta avida è 200 anni che lo vende a 19 99 ma credi di infinocchiare la gente credi di finocchiare la gente sono come i prezzi gonfiati per i black friday o nei supermercati lo vedono che qui non c'è l'affare non c'è l'affare non c'è l'affare costa sempre 19 99 quello è il prezzo che lo vuoi vendere anziché 39 99 ma chi te li da o matta ma chi te li da dai ragazzi veramente ma chi te li da l'hanno capito tutti che quello è il prezzo cioè mi uscissi o lo vai ellen noir ellen noir a 5 euro solo per una settimana per questa settimana te lo do a 5 euro te lo dono te lo dono te lo do faccia da pila allora sì questo è davvero un affare e te l'acquisto sarà solo per quella settimana lì ma costa sempre questi questi maledettissimi 19 99 euro perché è evidente che tu non puoi o non vuoi venderlo a meno di questa cifra e allora non funziona questo sistema è soltanto una pagliacciata è fumo negli occhi tu non dai la percezione agli utenti che ci sia l'affare non c'è nessun affare qui sono gli affari loschi dei produttori non c'è niente a tutela delle tasche del consumatore così non può funzionare quindi ragazzi è il game pass la chiave di volta è il game pass fategli qui gli affari lanciate qui i giochi e vedrete che gli utenti saranno più contenti perché avranno lo potranno testare toccare con mano e decidere se averlo con loro per sempre o giocarlo attraverso l'abbonamento questo può può ovviamente sono mie opinioni personali che potete assolutamente contestare e dibattere per questo a me fa piacere anche sapere il vostro punto di vista ma questo è come il vostro m o b vede le cose e anzi fatemi sapere anche voi il vostro punto di vista nei commenti che sapete io li leggo e li leggo anche live nei video mettete il cuore no il cuore ve lo metto io voi che mettete mettete like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella per essere sempre informati sui prossimi video noi ci vediamo al prossimo boxari in gamba ciao ciao